ciao giacomo siamo qui a lemon ball tenisti in pianello come sempre larga partecipazione abbassate pure un po sulla retina qua come stavi prima perché ecco così bravo allora dicevo eccolo qua il giovane che vince Danibale no? primo turno vieni 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 un attimo vieni qui ti salutiamo volentieri primo turno un turno sempre delicato ciao 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 stiamo parlando senti un attimino il commento di Giacomo Vianello prego parliamo di questo giovane questo giovane sta crescendo giorno dopo giorno è un piccolo giocatorino attualmente a mio parere anche a parere degli altri maestri di Simone Torri che collaboriamo insieme appunto con questi ragazzi è il più è il più maturo attualmente è maturato maturato fisicamente e mentalmente tanto ecco tanto il suo gioco gambe incredibile che gli permette di di star sempre sulla palla e di poter utilizzare questa manina che ha perché il ragazzo gioca bene a rete gioca bene a fondo campo la tecnica la tecnica che vi insegnate insomma si insiste molto allora diciamo questa parola maturare maturare mi sembri un pochino più concentrato adesso rispetto a un po' di tempo fa vero? sì sì eh sei più attaccato al punto sì allora dimmi un po' la tua impressione a caldo su questo match questo ragazzo gioca bene viene mi sembra da Genova e l'altro anno ha dato filo da torcere a gigante quindi diciamo che tu è stato stato bravo allora come hai gestito questa partita? eh non ho mollato un punto e i risultati sono arrivati cioè correvo su ogni palla non lasciavo una palla anche se ho male al polpaccio però si vince il tie break il tie break è importante dà fiducia no? sì infatti prima del tie break non sentivo molto bene il dritto ho vinto il tie break tirato e tornato il dritto nel secondo setto questo è esatto allora questo match point uno smash insomma che ti è passato per la testa? eh ho cambiato di idea prima la volevo e poi lo smash eh già comunque diciamo che se c'è un punto debole attualmente è lo smash non far vedere questo video prima della fine del lemon ball ma è lo smash allora complimenti alla prossima e ciao 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 ciao